Ciao a tutti amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video oggi apriamo una nuova rubrica che non sostituirà ovviamente il retro cookies perchè il retro cookies ci sarà sempre nel mio canale ma però la sposterò una volta ogni 2 settimane e una volta ogni 2 settimane faremo questa piccola rubrica spero divertente su giochi in flash si giochi in flash so che può sembrarvi strano ma mi è venuta in mente questa cosa qua spero vi piaccia e oggi iniziamo con questo pixel escape che l'ho provato tipo 2 minuti però mi sono divertito era carino e spero non si senta troppo alto e iniziamo eh vabbè c'è la presentazione dai è vero fammi giocare eh infatti è tipo altissimo no non posso non posso regolare guarda che carini che carini yeee salta 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 ok avevo già fatto i primi livelli eeeh non so se li faccio rivedere se ma dai dai ve li faccio ve li faccio rivedere vabbè skipiamo vabbè il gioco è semplice c'è anche scritto bisogna scappare da una specie di ondata di pixel eh saltando salvando altri omini di pixel eeeh disegnando dei punti e cose del genere eccolo qua ta 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 eeeh oh mio dio perchè sto giocando a questa cosa non lo so eeeh ci serve chiaro che probabilmente questo gameplay ve lo metto tutto cioè lo faccio senza tagli dai corri piccolino corri ok ok come vedete vabbè sono i primi livelli sono abbastanza facili corri ok devo disegnare un ponte ok corri 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 no no sono morti poverini sono morti tutti corri piccolo amico non fare la loro stessa fine ok 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 perfetto non so se vi possa piacere questo gioco perchè è un po' strano però dai è carino secondo me è carino oddio ci sono adesso ci sono pure gli spunciotti corri salta 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 no 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 corri 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 no 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 e anche la musica è veramente bellissima oddio cosa sto giocando ma cos'è sta cosa correte piccoli amici nooo c'è arriva la marea corri ah no sono morti tutti ah e vabbè ahah come vedete non gioco a livelli comunque è molto molto simpatico secondo me ah no no dovevo salvare il mio amico grigiastro cosa è sta cosa dove cazzo siamo sembra una specie di minecraft sta cosa ma che è ta 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 na 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 che bella musica però oh mio dio oh mio dio no 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 oh mio dio ne è rimasto uno ahahah ahahah oddio no poveretto volevo salvarlo volevo sebbene ah oh mio dio cioè poverino è rimasto solo ahahah soylent is pixel non so cosa voglio dire no e vabbè se però non saltano dai dai piccoli amici saltate oh signore perchè sto facendo questa rubrica non lo so proprio ahahah era carina oddio oddio ahahah ma che gioco è sia ben chiaro che gioco non l'ho scelto io eh ahahah me l'hanno consigliato per cui eh non abbiate male per favore vi prego non non uccidetemi se sto facendo questa cosa qui so che può sembrare una cosa stranissima però vabbè dai eh oddio c'è la lava saltate oddio che poi tipo è proprio una specie di minecraft perchè c'è pure la luna quadrata e quindi boh non so se c'è la luna o il sole quella cosa non lo so jump like a cove ma perchè le mucche non saltano io non sono una vacca poi che cazzo vuoi tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttta la musica pixelosa è proprio fantastica questa musica 8 bit è veramente bellissima potrebbe essere bineurale state attenti Ma vabbè scherzo Daie però Oh mio dio ci sta raggiungendo Saltate Saltate Oh ma che figo Oh mio dio Che cazzo succede Ok Eeeh sono tutti contenti 20% harder E vabbè Morti tutti in maniera In maniera bruttissima No devo andare a salvare il mio amico E vabbè No Correte piccoli amici Ho sbagliato No Che cazzo Che succede No c'era anche Oh che succede Succedono delle cose strane Ok Ok salviamo il nostro amico Ti salverò della marea di pixel Correte Correte Oh mio dio Oh mio dio Niente Cazzo si sta facendo difficile ragazzi So che può non sembrare difficile So che può sembrare una cazzata sto gioco Però fidatevi Non è per niente facile Oddio Non riesco a prenderlo quello Eh vabbè Eh vabbè però Cazzo Ma non so se non sa saltare No No Cazzo Potevo salvarlo Poverino Purirà Ok questo lo salvo No Sono morti in 300 miliardi Eh vabbè però io non riesco Che palle Vabbè ho capito forse come fare Speriamo di farcela Dai Saltate Saltate Vai Ok Ok Ce l'ho fatta Oh signore Oh signore Corri 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 piccoli Correte Correte Oh mio dio Cos'è sta cosa Ok Oh mio dio No Ne è morto uno Steady Ready Pixel Ok La musica Le musiche di questo gioco Sono stranissime Però mi piacciono Sono veramente belle Oddio No Dove sono finiti Sono morti No Poveretti Correte Venderemo Cara la pelle No 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 Oh mio dio Cazzo 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 Corri Dai Ok Ok Sono morti tipo in 300 miliardi Ma non importa Noi siamo Siamo ancora vivi Cazzo Oh no No non bloccatevi Ah Oh Oddio c'era un buco Non l'avevo neanche visto No Oddio ci sono delle spine Sono andate tipo proprio lì Eh vabbè No Oddio Cioè si sono salvati quei due E' morto il primo E' morto il primo Vabbè No ok Perfetto No Eh vabbè ho sbagliato qua Aiuto No cazzo No ho sbagliato di nuovo No Correte Correte Dovete salvarvi Dovete salvarvi Piccoli amici Pixelosi amici Mi devo salvare Mi devo salvare Oh mio dio E vabbè Oh signore No Eh vabbè ho sbagliato Dai 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 Cazzo No Oh Oh Oddio Forse ce la faccio Forse ce la faccio Dai 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 piccolo amico blu Corri Corri Scatta Come se non ci fosse un domani No Oh L'ho salvati Uh Che culo Ok ragazzi Eeeh Io direi di fare un altro paio di livelli Dai Giusto perché mi sto divertendo Oddio Oh adesso è difficile cazzo Vai Oddio No Eh vabbè All your picks are belong to us Ok La musica è veramente bellissima Cioè lo so che l'ho già detto Ma ragazzi Veramente spettacolare Sta musica A me piace un sacco No Dai Sono morti malissimo Vedete Vedete cosa succede A distrarsi Mentre si parla Cazzo Poveri poveri amici pixel Moriranno Oh mio dio Non l'avevo manco più visto Cioè non mi ricordavo niente che c'era Ok Ok Salta 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 Uh Si è salvato Cioè si è salvato Non so come Ho appena detto che si era salvato Poverino È morto È morto in maniera bruttissima Oh no Oh Hanno fatto uno scivolone Ok Salta 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 Eh vabbè Io mi dimentico sempre che devo usare anche la pennetta qui a disposizione Vabbè Mi dimentico sempre che ho la pennetta a disposizione ma vabbè Cioè adesso la uso qualche volta forse Se mi ricordo Ok No troppo No No L'ho usata troppo mi sa Poveretti Perché li faccio morire in questa maniera proprio pietosa Poveretti Mi dispiace perché mi stanno anche simpatici No Eh vabbè Cazzo Palle Dai Dai Voglio finire almeno questo livello ragazzi Almeno questo e dopo E dopo E dopo basta Perché Sennò il video si dilunga troppo Ah si è ben chiaro che come ho già detto il gameplay lo metto integrale Anche perché mi sembra un po' Mi sembra un po' da Da burini se mi concedete il termine Mettono a pezzi Perché comunque A me sinceramente Dai è carino Eh vabbè però Non riesco a fare un cazzo Vabbè dai Proviamo le ultime due volte Vediamo se ce la faccio Cazzo Cazzo dai 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 che ce la fate Piccoli amici No Cazzo Dai credo in voi Credo in voi Uh L'ho salvato L'ho salvato Eh no Eh vabbè Dai l'ultima volta L'ultima volta L'ultima volta E poi basta L'ultima volta Dai 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 No Oh Oh mio dio Sono tipo esploduti Esploduti Mi raccomando che è giusto così l'italiano Oh signore Eh vabbè No dai vabbè Questa non conta Dai facciamo l'ultima Perché Dai Sono morti in maniera orripilante C'è poveretti Mi dispiace A me stanno simpatici questi piccoli omini di pixel No Vabbè dai ragazzi Direi che Che basta così Bene ragazzi Il video Lo concludo qui Spero che l'idea vi piaccia Spero che Che comunque L'idea di fare dei giochi così in flash Comunque simili o Anche diversi Dipende cosa trovo Cosa mi piace Spero che l'idea vi piaccia E Vabbè Come sempre Vi invito a mettere mi piace A iscrivervi A condividere E Ci vediamo al prossimo video Ciao fioi Ciao fioi Ciao fioi Ciao fioi